Bentornato sul mio canale, io sono Pasquale. Qualco tempo fa ho pubblicato un video in cui si parlava dei dividend aristocrats, questi supereroi, per potersi creare una rendita mensile. Ma se invece tu volessi comprare una singola azienda che ti possa fornire dividendi tutti i mesi, senza comprarne di diverse, in realtà di aziende così ce ne sono parecchie, qualcuna in giro. Ma oggi ti volevo parlare della Apple Hospitality Rate, con la quale ti potresti organizzare per avere effettivamente una rendita mensile fatta di dividendi. E infatti questa azienda distribuisce i propri dividendi ogni singolo mese, all'inizio del mese. Prima però di continuare in questo meandro mondo strano dei dividendi, ti volevo ricordare che io non sono un trader professionista, ma anzi sono qui per imparare e condividere la mia esperienza insieme a te. Io ho fatto questa scelta per diventare indipendente e passare più tempo con la mia famiglia. E per cui se tu decidessi di fare il mio stesso percorso, ti prego, ti imploro, mi inginocchio, ti consiglio di studiare la materia o di rivolgerti ad un trader professionista, perché in questo video non ti sto consigliando di investire, ma semplicemente ti sto passando solo alcune informazioni che sono semplicemente basate sulla mia esperienza personale, che è quella di un novello nel mondo degli investimenti. Bene, come dice il nome dell'azienda, Apple Hospitality Rate, e cioè un rate. Un rate è un Real Estate Investment Trust, un fondo di investimento immobiliare. Le proprietà di questo rate sono prevalentemente negli Stati Uniti e sono totalmente hotels, alberghi. Circa 235 hotel sono in gestione di questo fondo. La maggior parte sono parte del gruppo, e ho detto parte 16 volte nella stessa frase, del gruppo Hilton e poi Marriott, con un totale di 233 hotel su 235. La strategia aziendale è di investire in hotel di alta qualità, che sono situati maggiormente in aree per lo più urbanizzate oppure in aree ad alto sviluppo economico e commerciale. Per cui si tratta di un business che è ben integrato nel panorama americano. Gli hotel vengono gestiti in più di 34 stati, alla data di oggi nella quale sto preparando questo video. A proposito, non te l'ho detto prima, ma ti invito a iscriverti al canale, cliccare la campanella delle notifiche, così tu non ti debba perdere, o non ti possa perdere, l'italiano oggi non c'è, nessun video successivo, nel caso in cui questi contenuti siano di tuo credimento. Bene, le azioni della Apple Hospitality Rate quotano alla data di oggi, che è il 17-11-2019, circa 16 dollari ad azione, centesimo più, centesimo meno, e rendono un dividendo mensile di circa 12 centesimi di dollaro per ogni azione. L'azienda, essendo parte del mercato immobiliare, tende comunque ad essere molto incline, ad essere vulnerabile in caso di crisi del settore, ma essendo del di lusso, credo, e questa è una mia personale opinione, che l'incidenza non sia così drammatica come in altre tipologie di rates. Inoltre, pur avendo cambiato nome qualche volta, si trova sul mercato immobiliare degli hotel da circa 20 anni, e con la sua denominazione recente, dal 2007. La puoi trovare quotata al NYSE, il New York Stock Exchange, col ticker APLE, APLE, l'ho detto in tutti i modi. L'azienda ha una capitalizzazione di circa 3.6 miliardi di dollari, per cui non sono bruscolini, o bruschette, come diceva Elio Esso dei Tesi, anche se ovviamente non si tratta di Amazon, non è quella grandezza. La ex dividend date è solitamente il primo giorno del mese, per cui tenere le azioni il primo giorno del mese, di garantisce il pagamento dei dividendi per il mese in corso. Sicuramente non ci si deve immaginare di investire in questa azienda per fare crescita, e vedere le proprie azioni magari crescere in maniera esponenziale, come, non so, potrebbe essere il caso di blue chip company, come Amazon, o Google, o Microsoft, ma sostanzialmente come una somma investita, con la quale si riesce a creare un flusso di cassa, di dividendi, per cui di denaro che è costante nel tempo, e che può essere invece riutilizzato per essere reinvestito nell'acquisto di altre azioni che magari sono aziende growth, o con dividendi che siano più interessanti, o magari con ETF, insomma, usali come vuoi tu, non sono mica soldi messi e ci investi tu, non ti devo fare i conti in tasca. Ho sentito di gente che addirittura usa l'investimento in Apple Hospitality Rate per pagarsi le bollette, e ho scoperto questo, e questa azienda, appunto tramite alcuni youtuber americani, perché secondo me, in Italia, ancora, la cultura del dividendo non c'è, anzi, viene completamente sdompata dai molti. Io invece vedo, che le aziende che distribuiscono dividendi, abbiano una serie di vantaggi, se ovviamente, questi dividendi, sono sostenibili, dall'azienda stessa, nel tempo, in quanto le fanno avere, un maggiore flusso di cassa, una maggiore stabilità, in funzione del fatto che, se loro decidessero, a un certo punto, per difficoltà economiche, di levare i soldi, avrebbero questo flusso di cassa da utilizzare. Ovviamente, diversificare in vari settori, ti pone al riparo, da crisi settoriali, come in caso, nel caso dell'Apple Hospitality Rate, nel settore immobiliare. Sicuramente, questa azienda finirà nel mio portafoglio, perché credo, che sia un buon investimento, appunto, per avere una certa liquidità, mensile nel tempo, e che possa essere riutilizzata per altri scopi. Bene, spero che queste mie informazioni su questa particolare azione, siano state di tuo interesse e di tuo gradimento. Se hai altre informazioni in merito rispetto a questa azienda, mi farebbe piacere moltissimo, se le condividessi con me qui sotto nei commenti, così che possa aiutare me, e anche tutte le persone che, come me, e come magari te, o qualcun altro, sia alle prime armi. Fammi sapere se investi già in Apple Hospitality Rate, o se la stai valutando, e scambiamoci opinioni in proposito. Se il video ti è piaciuto, ti raccomando, c'è un segno lì che si chiama pollice, e in su, quello lo devi devastare, distruggere, cliccandoci su, oltre a cliccare anche sulla campanella, delle notifiche, e sull'iscrizione al canale, in modo da vedere tutto quanto, quello che verrà pubblicato in futuro. Ti ricordo che trovi l'easing e il ticker, dell'Apple Hospitality Rate, qui, nella descrizione del video. Per oggi è tutto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!